Cauto ottimismo per due importanti interventi che sembrano finalmente sbloccarsi dopo anni di mobilismo da parte dell'amministrazione comunale, esprime il gruppo consigliare del Comune dell'Aquila il passo possibile. Il primo intervento riguarda la pineta di San Giuliano e l'area di Madonna Fore, polmone verde e meta prediletta da molti aquilani, gravemente danneggiata dall'incendio dell'agosto del 2007. La pineta invece attende da troppo tempo il rimboschimento. Nonostante i 3 milioni di euro stanziati per il progetto, soltanto adesso il Comune ha incaricato un tecnico per la redazione del progetto di fattibilità. Il passo possibile denuncia la mancanza di visione strategica e la carenza di programmazione che hanno causato questo ritardo ingiustificabile. E pur si muove, ma in fondo è davvero così, commenta Elia Serpetti. Per Emanuela Iorio è deprimente e poco rassicurante che soltanto adesso, dopo anni di stallo, si agisca. Ci sono poi le opere anti-valanga Vena Rossa. Le abbondanti nevicate del 2017 provocarono valanghe che raggiunsero e bloccarono la strada, danneggiando la vegetazione e le attività ricettive e la mobilità dei residenti. I lavori di messa in sicurezza finanziati per 1 milione e 630 mila euro e inseriti nei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono ancora fermi al palo, dice il passo possibile. Il Comune, soggetto attuatore, rischia di perdere i fondi se non procede velocemente con i lavori. Questo modo di fare è figlio di una perenne mancanza di visione strategica, sostiene Massimo Scimia. Il passo possibile chiede di accelerare i tempi e di utilizzare finalmente i fondi già stanziati per restituire al territorio due importanti risorse. Siamo costretti a denunciare nuovamente questo immobilismo che penalizza il nostro territorio, è il commento del consigliere Alessandro Tomassoni.